Ciao! Oggi vediamo come cucinare delle perfette patatine fritte. Vediamo gli ingredienti. Pelate le patate già lavate, tagliatele a bastoncino e lasciatele in acqua fredda per almeno due ore. In questo modo tireranno fuori l'amido. Versate l'olio in una padella grande e portatelo alla temperatura di 180 gradi. Scolate le patate e asciugatele. Friggete le patate per 5 minuti e scolatele su carta paglia. Portate l'olio alla temperatura di 200 gradi e friggete di nuovo le patate fino a doratura. Scolate su carta paglia e salate. Le patatine fritte sono pronte. Buon appetito e un saluto da Alessandra Lugieri.